grigli occhi, grigli occhi che io adoro, grigli occhi ciao creatura io sono Ecate Splendente, benvenuta, bentornata nel regno di Cosaia questa sera faremo una sessione di suoni con oggetti beauty o che possono essere make up o per la skin care o prodotti o anche oggetti e abbinerò questa sessione di suoni al whispering perché a me piace quando oltre ai triggers fatti con gli oggetti c'è abbinata anche una voce, una voce, una voce, una voce mi piace, come dico adesso? quindi iniziamo, 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 iniziamo 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 questo è uno scrub per il corpo alla profumazione lampone lampone, 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 lampone non buoni la confezione di plastica anche il tappo però il tappo ha questo stickers di carta plastificata e quindi il suono è diverso anche questo è uno scrub però è uno scrub viso la marina e il censero Fortunatamente la sua profumazione è totalmente nelle mie radici, quella della Marina, perché lo zenzero non mi piace, ma tanto devo mangiarlo, credo che lo zenzero non abbia odore, ma solo quel saporaggio tra il sapone per i piatti e quella piccantezza che ti brucia tutta la gula, non come il peperoncino, ma in un modo totalmente distruttivo. So, va bene, sono i piatti. Bellissimo tapping, un altro prodotto beauty che considero far parte del beauty. I dischetti della Sien, in questo caso, che ho da 38.000 re geologiche, perché li utilizzo solo per togliermi lo smalto dalle unghie ed è un po' che non utilizzo smalto colorato. attualmente sto testando quello smalto che ho acquistato da Action, per indurire, così si dice, per indurire le unghie e renderle più forti, perché per struccarmi utilizzo un quanto sintetico che ho acquistato tanto tempo fa da Lidl ed è riutilizzabile perché si può lavare. il cotone con il cotone non王ito, non è giù nemmeno. trovo bene a togliere lo smalto perché s'appiccica tutto, è un disastro, non so se esistono dei dischetti per togliere lo smalto e che siano riutilizzabili e lavabili, se ci sono li comprerò, però credo sia difficile pulire lo smalto dalla stoffa, esistono dei dischetti struccanti, però non so se posso utilizzare anche per lo smalto. Mi informerò su questa cosa, la mia ossessione, ovvero questa acqua, 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 profumata ovviamente al profumo di coco acqua acqua corpo profumata body water sto inventando le parole ma il logico questa confezione è composta da diversi materiali quindi si presta bene ad essere anche utilizzata oltre come profumo, come acqua profumata ma anche per un video ASMR in quanto appunto si possono ricavare diversi tweakers perchè qui ha la plastica grino, si si non è vero che si può anche scucciare scricciare scriccia beh insomma non fa un granché di suono tapping qui ha questa specie di non so che materiale sia ma sembra e quello è argentato non so che quello forse è plastico argentato potremmo poi c'è questo tapping che è sempre plastica ma fa un altro suono perchè avrà un spessore diverso poi c'è l'acqua profumata dentro quindi questo suono liquido questo suono liquido fa tutte bollicine dentro bollicine 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 dentro bollicine bollicine dentro e poi il pezzo forte il pezzo forte il pezzo forte diamo due spruzzate perchè non sia mai non sia mai che io voglia consumarlo o meglio dire tra mille virgolette tra mille virgolette tra mille 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 virgolette a sprecarlo a sprecarlo appena atterrato un'astronave c'è stato un suono strano dal cielo sono venuti a prendermi finalmente comunque spruzza tutto il tritto 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 sul webcam ottimo tanto era chiuse vabbè adesso spruzziamo verso di te chiudi gli occhi chiudi gli occhi chiudi gli occhi chiudi gli occhi ottimo devo pulire la videocamera Tutte goccioline, tutte goccioline, tutte goccioline. Senza occhiali batto sempre contro il microfono perché non riesco a vedere la profondità, non ho il senso della, non so come spiegare. C'è anche il tappino che si può sugcicare, non so come si dica. Quindi top, quel prodotto top, 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 top. Poi ho ben due, non uno ma ben due creatura beauty. Questo, questo fa un suono bellissimo ma l'altro, l'altro è, wow. Top, 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 vediamo. Questo fa suono tipo di gocce di pioggia potenti sull'ombrellino. Alla prossima. per quanto mi riguarda potrei fare due ore di video solo di questi suono perché è top una parte tipo di finta pelle nel mentre vuole un cane che appaia e ulula alla luna forse forse sarà un lupo mannaro qui c'è il logo di Kiko perché è un beauty di Kiko c'è anche la cernina, ora andiamo ad aprire questo, magari apriamo l'altro che è la cernina più grossa, più plasticosa forse forse andremo ad aprirla, forse il pezzo sarà tagliato perché il suono non piaceva io sono la dea, io decido questo altro beauty che è nero forse non si vedrà molto bene ma penso di sì perché poi in fase di editing si è tutto diverso, soprattutto perché ho gli occhiali e quindi vedo le cose, la magia degli occhiali comunque anche questo beauty è super triggeroso 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 si apre il tapping il tapping il tapping il tapping il tapping ma soprattutto per attura soprattutto 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 per lo scratching perché ho una textura di di finta pelle ma è tipo sembra tipo squamosa un po' come la pelle di serpente o di qualche erettile quindi in Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ci siamo un po' tutti già addormentati, però confermi perché io... Si... Se non si vede dalla videocamera sto... Aprendo... 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 Di solito quando lo fanno le altre persone nei video non mi piace perché lo fanno in un modo troppo caotico... Invece se lo faccio io che ne ho il controllo posso farlo lentamente... 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 Aprendo... 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 che spezza un po' la monotonina dei topping che ho fatto fino ad adesso, fino ad adesso, fino ad adesso, ogni tanto mi parte qualche... se devo spiegare, se vilante ecco mi mancano due dita, praticamente il topping viene diverso che devono ancora crescere, mi sono rotte le unghie devono crescere come le altre quindi vado anche meglio con la testa perché è la mia mano che utilizzo normalmente scoppietta, scoppietta e qui ho un altro, un altro, un altro quella è della Kikua tanto per dirne una, questo è un lipstick un lipstick della Essence Vibrant Shock Lip Paint ah, mi sa che il suono è simile però forse questa apertura è diversa no, è simile, pensavo, pensavo diversa però è un profumo più buono questo sa di ramponi poi abbiamo questo struccante che ha un suono molto più delicato del profumo, dell'acqua profumata perché come appena lo tocchi fa la schiumetta appena lo scuoti fa tutta la schiumetta e fa proprio il suono della bottiglia di plastica della pioggia della pioggia forse anche di un vetro ma non è di vetro è di plastica ma non è di vetro di un vetro di un vetro ma non è di vetro perché anche ma è un tempurale ma è un tempurale l'ultimo, il più bello il mio preferito quello che ti accompagnerà alla chiusura di questo video potresti pensare che non è un oggetto beauty ma in realtà puoi usarlo sia per farti lo scrub come spugna oppure per pulirti i pennelli perché no? su Amazon lo vendono come un prodotto beauty quindi anche perché non saprei come altro cioè io in realtà non lo uso come prodotto beauty lo uso solo per fare i suoni e lo trovo anche uno steaming toy perché quando ti faccio video mi piace toccare toccare questo questa spugnetta e perché oltre al suono mi piace anche la sensazione tattile è l'ultimo triggers quindi dicevo che mi piace appunto toccarlo oltre che ascoltarlo questo audio potenziale è così mi piace la sensazione solo che non la so descrivere però manca solo che abbia un profumo perché soddisfa sia come suono sia come morbidezza massaggiante sulle mie dita e molto piacevole appunto manche spesso ho visto una profumazione potrei si spruzzarcela io ma è di silicone penso che non resterebbe e sarebbe l'oggetto perfetto da tenere sempre in mano e toccarlo e toccarlo e a clore e g a 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 Grazie a tutti. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti abbia fatto rilassare. Io ti auguro buonanotte, buon relax. Grazie a tutti. Grazie.